Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto di Ambra Angiolini in atteggiamenti decisamente teneri insieme ad Andrea Bosca, attore piemontese che l'attrice avrebbe conosciuto a stromboli sul set della fiction dedicata alla protezione civile. Poco dopo sarebbe scoccata la scintilla. E ora ecco le foto che immortalano anche un bacio fra i due. Chi è Andrea Bosca? L'attore piemontese Andrea Bosca, nato a Canelli il 14 luglio 1980, è diventato un volto particolarmente noto al pubblico con la sua partecipazione alla fiction Rai, Macari. Un curriculum particolarmente variegato, che lo ha portato ad essere uno dei protagonisti del cinema italiano degli ultimi vent'anni. L'attrice e conduttrice ha concluso nel 2021 la storia d'amore che l'aveva vista legarsi sentimentalmente all'allenatore Massimiliano Allegri. Una fine burrascosa di un rapporto che sembrava poter essere destinato a una conclusione ben più felice. Ora Ambra Angiolini appare finalmente sorridente e felice accanto ad Andrea Bosca.